Lunedì 12 giugno la San Giovannese parlerà a 360 gradi e l'ambiente sportivo, quella sede con orario ancora da stabilire ma verosimilmente l'appuntamento sarà per il primo pomeriggio, diverrà luogo di spiegazioni non soltanto sulla domanda di ripescaggio ma anche sulla struttura tecnica ed economica per il nuovo anno, quale che sia il palcoscenico degli Azzurri. A questo proposito le speranze di ripescaggio di giorno in giorno sembrano aumentare, la prima in classifica tra le retrocesse e play-out ovvero l'Olginatese avrebbe annunciato la volontà di non proporsi tra le compagini da riammettere e qualora tale situazione trovasse conferma gli Azzurri si ritroverebbero a scalare ben due posizioni globalmente ed al secondo posto assoluto tra chi ha già giocato nell'ambito nazionale dietro la Recanatese. E' presto ancora però casomai per dire quante squadre saranno estromesse dai campionati di competenza dopo la già annunciata rinuncia dell'Atina. Intanto lunedì si svolgerà anche la presentazione di Nicola Delgrosso, un nuovo direttore generale che di fatto sta già operando con quel compito da maggio. A lui il compito assieme a Cristiano Caleri di trovare in caso di ripescaggio giocatori utili alla causa da pescare nei campionati regionali senza che i costi si alzino eccessivamente.